Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Non c'è pace per la Royal Family. Dopo il cancro di Re Carlo III e la chemioterapia di K. Merotin, tornata recentemente a mostrarsi in pubblico, l'annata reale continua a essere segnata da problemi di salute. Come comunicato da una nota ufficiale diramata da Buckingham Palace, infatti, la principessa Anna, sorella di Re Carlo, è stata ricoverata in ospedale in seguito a un incidente domestico nella sua tenuta di Gacomcord, che continua a rimanere sotto osservazione a causa di ferite e una commozione cerebrale. Poche ore fa, nella giornata di oggi lunedì 24 giugno 2024, il sito ufficiale della Royal Family ha pubblicato una nota riguardante le condizioni di salute della principessa Anna, 73 anni. Attualmente ancora ricoverata in ospedale a Bristol, nei pressi del confine con il Galles, sua altezza reale rimane al South Mid Hospital di Bristol, come misura precauzionale in osservazione e si prevede che si riprenderà completamente e rapidamente. Come reso noto dallo statement della Casa Reale e poi riportato da BBC e CNN, ci sono aggiornamenti anche riguardanti il fratello, Re Carlo III. Il re è stato tenuto attentamente informato e si unisce a tutta la famiglia reale nell'inviare e il suo affetto più profondo e i suoi auguri alla principessa per una pronta guarigione.